allora va bene anche se lì ti sei un attimino confuso ti sei trovato davanti la parete no però l'hai fatta va bene va tutto bene però devi dosare la velocità perché ho visto che non usi i freni devi usarli tipo quando sei al primo giro che hai fatto quei due consecutivi al secondo sei arrivato veloce e la moto si è scomposta tutta stavi saltando che se è voluto va bene ma siccome non hai usato i freni non era voluto è stato diciamo fortuito che non sei un attimino ribaltato controllo controllo vai controllata vai scendi giù controlla vai bravo 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 bravissimo perfetto perfetto bravo 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 C'è quello che ti fanno? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.